Se al comune di Teramo è stato possibile pensare ad una macroarea tecnica con un dirigente di riferimento e funzionari con delega alla firma, questo apprezzabile intervento del sindaco Brucchi non potrebbe essere direttamente proporzionale anche alle deleghe tecniche in giunta? In altre parole, se la dirigenza tecnica si accorpa, perché non riunire anche le deleghe che sono spalmate su ben tre assessori, che rimandano a Rudi Di Stefano, Giorgio Di Giovangiacomo e Mario Cozzi? Su Giunta e Spending Review torna così all'attacco dai banchi del Partito Democratico Manola Di Pasquale, che in questi mesi dell'argomento ha fatto un suo agguerrito cavallo di battaglia. E' bene l'idea del sindaco di riorganizzare gli uffici amministrativi del comune per dare una risposta di efficienza. E' anche il fatto che è intenzionato a creare un unico super dirigente che inglobi in sé tutti i lavori pubblici, l'edilizia e quindi tutto un settore tra virgolette urbanistico del comune. E' chiaro che però accanto all'urbanistico e ai lavori pubblici l'edilizia privata, accorpato sotto un unico dirigente dovrà necessariamente prevedere anche la possibilità di ridurre i numeri degli assessori, che sono tre deleghe su questi uffici, con un unico grande dirigente e anche un unico grande assessore, che potrà svolgere un ruolo di completezza. E soprattutto questa riorganizzazione ha un senso se effettivamente porta una riduzione della spesa vera e porta a dare una risposta immediata ai servizi dei cittadini, perché oggi quegli uffici sono molto lenti sia nell'organizzazione dei lavori pubblici, ma soprattutto nel rilasciare le licenze di edilizie a dei privati. E questo determina un danno alla collettività, non solo ai privati che devono organizzare, costruire o riorganizzare, ma anche nei confronti dell'economia, perché ovviamente non è in moto la moneta che gira intorno al cemento. Per cui è necessario che la riorganizzazione preveda anche una riorganizzazione vera di funzionalità degli uffici, di risposte immediate e di trasparenza nell'attribuzione degli incarichi professionali e degli appalti.